scusate per la confusione ma mi tirava un attimo anche in testa e mi tirava un attimo spentarlo dietro lo schermo non so perché non so perché che video potete per 350 selezioni su youtube vorrei arrivare a mille iscritti che vorrei avere il play button il bottone di youtube scusate se parla su di modo un po comunque di fiatri piace ma è che fa questa è la versione 1.12 un punto un corso di scusate per il rumore domani mette il sensore ecco da sempre non è non è spazio 7 scusate la sedia facciamo una pozzetta a vi piace la mia sedia nuova vedete sono dietro si purtroppo la mia si stava un po' rompendo si stava un po' rompendo io se riesco a fizzare il coltetto o se spero oppla, sono un po' diarca, sono un po' diarca, sono un po' diarca, sono anche un po' diarca Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Non capisco se è verde. Non lo fa vedere. Ora facciamo aspetto. Facciamo la stradina. Ok. 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 Ok.